Oggi parliamo di informazione nei luoghi di lavoro ed in particolare di alcune importanti novità contenute nel collegato lavoro alla finanziaria 2011 che prevede il ricorso obbligatorio all'arbitrato. Con noi la dottoressa Luisa Matone, consulente del lavoro. Dottoressa Matone c'è però un'altra novità importante che è la clausola compromissoria contenuta nel contratto che il lavoratore stipula con il suo datore di lavoro. Sicuramente tra le novità più importanti abbiamo proprio la clausola compromissoria che poi porta alla stipula all'arbitrato. La clausola compromissoria è proprio una possibilità che viene offerta al datore di lavoro e al lavoratore di decidere di nominare un collegio arbitrale per risolvere le eventuali controverse di lavoro che possono sorgere all'interno del rapporto. La clausola deve essere sottoscritta appena di nullità dinanzi ad una commissione di certificazione. La stessa commissione di certificazione che certifica i contratti di lavoro. Questo proprio per sondare l'effettiva volontà delle parti di voler devolvere ad un collegio arbitrare la risoluzione della lite in sorgente. Bisogna però specificare per quale tipologie di liti ci si può rivolgere ad un collegio arbitrale. Innanzitutto per questioni relative alle ferie, permessi, la qualifica, le mansioni, gli avanzamenti di carriera. Per quanto riguarda però il licenziamento o le dimissioni bisogna comunque sempre rivolgersi, seguire il processo ordinario, quindi il giudice del lavoro. Molto importante è anche specificare in quale momento può essere sottoscritta questa clausola compromissoria. In qualsiasi momento, però, qualora ci fosse un patto di prova all'interno del contratto di lavoro, bisogna aspettare la fine del periodo di prova. Qualora questo patto di prova non fosse stato stipulato all'interno del contratto, bisogna attendere che siano decorsi 30 giorni dalla stipula del contratto. Una precondizione a tutto ciò è che sia previsto da accordi interconfederali, dice appunto il collegato lavoro, oppure dai contratti collettivi nazionali, la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale.